Abbiamo allestito un piccolo banchetto con le mele per raccogliere i fondi per la ricerca, perché questa malattia ha bisogno di tutti, anche perché colpisce bambini, adulti, uomini e donne in maniera così improvvisa, non si sa l'età in cui viene colpita la persona. Quindi noi cerchiamo nel nostro piccolo di aiutare in modo di essere una piccola goccia dell'oceano che si riempirà spero presto. E chi volesse aiutare la ricerca acquistando queste mele, dove può trovarvi e fino a quando? Allora noi sicuramente tutta la settimana saremo presenti qui vicino alla Coppa Lucrezia con questo piccolo banchetto, quindi chi vuole vi aspettiamo, abbiamo bisogno anche di voi.